Migliorare la qualità del cibo nell'area metropolitana di Torino, con alimenti il più possibile sani, buoni, sostenibili, legati alle tradizioni e al territorio. E' il tema che al Museo della Resistenza di Collegno è stato al centro del secondo dei tre momenti di seminario e riflessione del progetto Nutrire Torino Metropolitana, un'iniziativa promossa dalla città metropolitana, dalla città di Torino e dall'università, per definire un'agenda strategica del cibo, da proporre ai decisori politici ed economici, quelli che hanno il potere di determinare cosa finisce tutti i giorni sulle nostre tavole, a casa, nelle mese scolastiche aziendali, nei bar e nei ristoranti, nelle case di riposo e negli ospedali. L'idea è quella di far parlare fra loro tutti i soggetti pubblici e privati che influenzano a qualsiasi titolo la qualità del cibo quotidiano. A Collegno si sono confrontati 140 fra operatori della produzione e della distribuzione, consumatori, esperti di agricoltura e di alimentazione, amministratori e tecnici delle istituzioni, per far emergere idee, progetti, esperienze innovative che potranno essere sostenuti con fondi europei o regionali o sponsorizzazioni pubbliche e private. Vogliamo valorizzare l'esperienza che la provincia di Torino in questi anni ha maturato, ha costruito, rapporto con il territorio, in particolare su due aspetti, voglio sottolinearli, quello del piano territoriale di coordinamento che ha previsto, prima in Italia, il consumo del suolo zero, quindi la tutela del suolo destinato all'agricoltura e quindi anche a un concetto di tutela del cibo e dell'ambiente e della filiera che porta alla produzione di un cibo buono, giusto e di qualità, importante e l'altro quello del paniere dei prodotti tipici della provincia di Torino. Abbiamo un'esperienza maturata in questi anni molto importante e molto significativa e noi vogliamo continuare a valorizzare questa esperienza all'interno di un contesto nuovo che è quello della città metropolitana con una funzione fondamentale che la provincia non aveva che è quella dello sviluppo sociale ed economico. Qui noi vogliamo arrivare a scrivere un'intesa con il territorio, quindi condividendolo con il nostro territorio, con i nostri amministratori, con tutti coloro che sono attori dello sviluppo economico nel nostro territorio, vogliamo arrivare a scrivere delle politiche alimentari che siano anche strategiche e quindi inserirle nel nostro piano strategico proprio perché crediamo che quello sia il modo giusto di lavorare. Il cibo non è un termine che sta a sé, sta all'interno di un contesto organico. Il cibo ha delle conseguenze sulla nostra salute, sull'educazione, ha delle conseguenze sull'ambiente, ha delle conseguenze anche su una visione di sviluppo. Noi vogliamo che sia una visione di sviluppo sostenibile rispetto alle politiche economiche e sociali del nostro territorio e riteniamo che il cibo possa svolgere questo concetto di politica alimentari che ruota intorno al cibo, possa svolgere una funzione importante. Grazie.